L'hotel Santa Maria Resort ad Oro 6, nella costa orientale della Sardegna, nasce all'interno di un'antica azienda agricola e si presenta con un'architettura tipica contadina, ricca di dettagli con le volte con canne e travi in castagna. Un ambiente semplice ma raffinato, familiare, dove ogni ospite è al centro dell'attenzione. La struttura offre ai suoi ospiti differenti soluzioni abitative, camera doppia o quadrupla, junior suite e family room. Gli ambienti, tutti molto confortevoli, sono disposti a cerchio e guardano verso la piscina ed il giardino. Tutte arredate con mobili e tessuti sarti artigianali. Ogni soluzione dispone di aria condizionata, televisore satellitare, frigo bar, cassaforte, telefono, asciugacapelli. Prelibatezze naturali. Questo è il binomio che caratterizza la cucina del ristorante del Santa Maria Resort. Gustosi piatti tradizionali tipici di questa parte della Sardegna, preparati con prodotti biologici coltivati e prodotti nell'azienda di proprietà o da aziende agricole limitrofe. L'hotel è dotato di una piscina per adulti ed una per bambini, dove potersi rilassare nello spazioso prendisole attrezzato, antistante il grande prato inglese, con essenze, piante e profumi mediterranei, circondato da grumenti. Per i più esigenti, un ampio spazio relax con un centro benessere all'avanguardia, con sauna, idromassaggio, doccia cromatica, piscina idromassaggio jacuzzi, percorso Knapp e pedana vibrante. Per chi vuole restare in forma anche in vacanza, il centro fitness dell'hotel è fornito di attrezzi all'avanguardia. In reception troverete personale qualificato che vi suggerirà come visitare le perle vicino alla struttura, oppure organizzare un'escursione in quad o una mini crociera in barcone lungo la costa. Il Santa Maria Resort vi aspetta per un piacevole soggiorno.